Un timpano rotto è la prognosi per il vigile del fuoco ferito nella notte durante lo spegnimento di un incendio che ha interessato un garage a dolo nel veneziano, a causare la lesione e lo scoppio di uno dei pneumatici delle auto distrutte dalle fiamme. Il rogo si è sviluppato nella rivessa delle vetture per cause ancora da definire e ha interessato un Alfa Romeo 159 e due auto d'epoca. Per evitare che le fiamme si estendessero all'abitazione annessa sono intervenute tre squadre di vigile del fuoco, Di Mira, Mestre e Padova, con cinque automezzi antincendio e 17 operatori. Divorata anche la pompeiana esterna in legno dell'abitazione. Le operazioni di spegnimento si sono concluse solo a mattina inoltrata.